L'asta terminerà alle 10.35, contando da 1 a 3. Se ci sarà un'offerta durante la conta, riprenderemo a contare. I portatori, indossare un abito scuro e una gravata, non dobbiamo dire, preciso, abito scuro e gravata. Sottostante, si va a prendere, continuare. Due minuti, mi ha detto che ne passano. L'ultima offerta, signor Coppi, 2.800 euro. Dichiareremo chiusa l'asta, contando da 1 a 3. Se c'è un'offerta durante la conta, si ricomincia a contare. Ultima offerta, signor Coppi, 2.800 euro. Due, tre. Bravo Coppi! Bravo Coppi! Grazie! Bravo Coppi! Grazie! 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 Grazie!